Ma, cari smandrappatini miei, come faccio a scrivere correttamente il plurale di acacia? Seguitemi. La sacra regola ci dice che se le sillabe cia e gia non accentate sono precedute da una vocale, al plurale la i resta fissa, inchiodata, non se muove, manco che cannonate. La sillaba finale della parola acacia è preceduta da un'a, quindi il plurale sarà acace con la i. Se invece le sillabe cia e gia sono precedute da una consonante, al plurale la i cade. More, gocce, arance e cosce si scrivono sempre senza la i. Anche con sci abbiamo una regoletta. Quando questo onesso non è accentato, al plurale la i non si conserva, se ne va. Fascia diventa fasce, senza la i. Ascia diventa asce, sempre senza la i. Facile, no? E dai, Gesù! Ascia diventafici. La santa gradosa. Quanto ca cominza? Grazie.